Gli abitanti di Carignano, l'oratorio e non solo, hanno messo in campo una serie di attività e di iniziative per recuperare i luoghi che caratterizzano il piccolo borgo. A partire dalla chiesa che ne è il fulcro, ma qual è il percorso che avete fatto in questi anni? Allora, partiamo da due anni fa, quando quest'intento di recuperare e valorizzare il borgo ha preso corpo, mettendo insieme le sinergie di varie persone che si sentivano e che si sentono tuttora parte integrante di questo luogo, ricco di storia, di cultura e sicuramente anche di una pesaggistica non trascurabile. Siamo partiti considerando che il valore che ha la chiesa è centrale, perché la fede, la tradizione, tutto è centrato nella chiesa, anche perché in fase di restauro di questa chiesa abbiamo individuato e scoperto delle opere che potevano risultare interessanti, illegibili al momento, ma che in un momento restaurato avrebbero potuto dare nuovi significati. Questo è stato fattibile perché l'amministrazione comunale ci ha sostenuto nel progetto fin dall'inizio e infatti due opere sono già state presentate, inaugurate all'inizio del 2022. Ora il cerchio bisogna chiuderlo, abbiamo una terza opera che è appunto Madonna con Bambino e Santi che si trova nella navata centrale in un altare laterale e chiaramente per raggiungere questo obiettivo abbiamo ora dovuto cercare di nuovo sostegno attraverso altre istituzioni locali che potessero permetterci di realizzarlo. Abbiamo aderito al bando della Fondazione Carifano, di Graufandi chiaramente, e da lì siamo partiti con una serie di eventi promossi in questi ultimi tre mesi. A sostenerci con grande fervore è stata anche la banca locale, la BCC, che ha finanziato il primo concerto. E ora abbiamo fatto un progetto importante che è quello di raggiungere il momento clou dell'anno che è appunto il Natale con un concerto organizzato all'interno della Chiesa di Fenile ma atto a raccogliere ancora fondi per chiudere questo cerchio. Quando si svolgerà il concerto? Allora il concerto lo terremo sabato prossimo il 16 di dicembre, appunto nella Chiesa parocchiale per questione di spazi. Ci sarà questo concerto con l'intervento del coro Voci Bianche, del coro Incanto. Peraltro consideriamo che a far parte del coro sono bambini e ragazzi di tutte le scuole di Fano. Dove sarà possibile acquistare i biglietti? Allora i biglietti si possono reperire su Ticketing, appunto che la rete del dono mette a disposizione questa possibilità inquadrando il QR code che trovate sulla locandina e anche in tutte le nostre pagine Facebook e Instagram. Inquadrando il QR code potete accedere direttamente alla piattaforma che vi guiderà per acquistare i biglietti. Ovviamente il biglietto è puramente formale perché si richiede una donazione minima di 5 euro che ci permetterà di raggiungere l'obiettivo. Ovviamente i bambini hanno tutti l'ingresso gratuito. E invece coloro che non riuscissero ad acquistarli online? Che possono benissimo venire al concerto perché avranno la possibilità di accedere con una piccola donazione all'ingresso della Chiesa. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.